Domani sera a Vallo della Lucania la quinta edizione del premio nazionale Antonio Pianese per la solidarietà e l'impegno sociale e civico. Tra gli illustri assegnatari c'è Michelina Monaco di Monte San Giacomo, sarà un premio alla sua memoria per essere stata una grande sostenitrice della vacanza del sorriso. La sua prematura scomparsa lo scorso settembre ha lasciato un vuoto incolmabile, dicono dall'associazione organizzatrice Cilento Verde e Blu. Il premio, spiegano, era un dovere per tutto quello che ha fatto attraverso le attività di accoglienza delle famiglie con bambini oncologici a Monte San Giacomo, ma anche per tutte le attività a scopo benefico e divulgativo, da lei sostenute per la promozione di tante iniziative collegate come il teatro del sorriso e il concorso artistico, nelle scuole mille mani per un sorriso. Purtroppo non avremo più l'occasione di incontrarle e confrontarci con lei, ma il suo insegnamento e i suoi consigli, la sua determinazione, la sua concretezza, così come il suo stile e la sua eleganza rimarranno, dicono sempre, impressi nella storia della vacanza del sorriso. Il premio nazionale Antonio Pianese è il prestigioso riconoscimento che l'associazione Cilento Verde e Blu annualmente assegna a persone, organizzazioni, istituzioni che si sono contraddistinte per un rilevante e significativo gesto di generosità, per una concreta opera di beneficenza e utilità sociale, per l'impegno finalizzato al miglioramento sociale, culturale ed economico della comunità, sia a livello locale che nazionale. La cerimonia per la quinta edizione si terrà domani alle ore 17 presso il Palazzo della Cultura a Ballo della Lucania. Come sempre, assicurano gli organizzatori, sarà una grande occasione per affrontare importanti e attuali tematiche sociali e promuovere la cultura della solidarietà condividendo storie di vita. Sarà preceduta in mattinata da un altro appuntamento, vista la presenza, dicono in qualità di assegnatari del premio, dei rappresentanti dell'Associazione Libera Contro le Mafie e della Presidente dell'Associazione Libere Donne di Crotone, Caterina Villirillo, l'Associazione Cilento Verde e Blu è pensata ad una tavola rotonda alle ore 9.30 presso la Biblioteca Erika di Capaccio Pestum, dove si discuterà di femminicidio.